Buonasera a tutti ragazzi, bellissima partita del Lecce, ho visto Lecce-Atalanta 2-1, bella partita perché combattuta, però il Lecce non ha fatto badicata, ha provato a vincerla sin da primi minuti, ribattendo colpo su colpo, bella squadra con idee di gioco, contropiede veloce, poi nel finale si ha sofferto un po' perché dopo il 2-0 iniziale del Lecce, avvenuto in pochi minuti, il Lecce ha fatto due golle in 2-3 minuti, poi ovviamente l'Atalanta si è diversata in avanti per cercare di riprendere la partita, prima Zapata accorciato e poi nel secondo tempo c'è stato un assalto dell'Atalanta, però il Lecce ogni volta che riusciva a ripartire ha dato problemi all'Atalanta, bella squadra, sto Lecce che dopo il punto preso proprio al Maradona, inchiodando il Napoli sull'1-1, una delle poche squadre che è riuscito a fermare il Napoli, batte anche l'Atalanta, e bel lavoro, lavoro di Baroni, sta facendo un ottimo lavoro, anche perché ripeto, non è una squadra che fa barricate solamente, prova ad essere anche propositiva e cercare di dare fastidio all'avversario, quindi complimenti a questa squadra, speriamo che continui così perché sembra una squadra del Sud, mi farebbe piacere rimanesse nella massima serie, ok? Complimenti, ripeto, a Lecce per la bella vittoria sull'Atalanta. Ciao a tutti!